Carissimi bentornati al capitolo 87 possiamo leggere come uno s'andò a confessare. La storia è davvero molto molto breve eppure anche qui fa riflettere e fa sorridere perché attraverso una battuta però si rivela una grande verità come spesso accade sia nel Decameron sia nel novellino si parla ancora una volta di sesso ed è praticato anche dagli uomini di chiesa anche il clero evidentemente adora fornicare questo perché è semplicemente un istinto naturale che appartiene a ciascuno di noi. Uno s'andò a confessare al prete suo e in tra le altre cose disse io ho una mia cognata e il mio fratello è lontano questo va a confessarsi tra le altre cose dichiara anche questo e quando io torno in casa ella per grande dimestichezza lei perché ha molta confidenza con me perché appunto è la moglie di mio fratello mi si pone a sedere in grembo mi si siede sulle gambe e questo perché ormai è nata una grande confidenza quindi non c'è nessun problema da questo punto di vista come debbo fare quindi per lei non c'è nessun problema in realtà per lui evidentemente no qualcosa viene stimolato rispose il prete a me il si facesse ella che io la ne pagherei bene magari lo facesse lei a me perché io saprei molto bene come ricompensarla quindi saprei molto bene che cosa fare e questo ci fa capire che in realtà quando si presenta l'occasione nemmeno il prete nemmeno il sacerdote si sottrae e quindi non rinuncia a questa tentazione quindi anche questa storia davvero stringata vi fa però comprendere come di sesso si parli si pratichi e soprattutto non ci sia assolutamente nulla di male come sempre noi ci vediamo alla prossima lezione a presto